Grazie 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 Vai Lo cercai costante Alza quella guardia Vai Ancora Ancora Stop Stanza Vai Vai Forza Forza Combina e pegna Non possiamo metterlo Vai Vai Forza Combina Eccolo Pegna e pegna Bravo Bravo Grazie 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 a tutti. 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 Si preparano per il prossimo incontro angolo rosso, De Angelis Valerio, angolo blu, Branca Leone e Daniele. Abbiamo il perdetto. Vince angolo rosso, Bona Francesco.